È una presenza discreta quella di Maria, una presenza silenziosa che illumina la quotidianità. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini, celebrando i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto in Cattedrale a Chiavari. Il Vescovo ha ripercorso la storia dell'apparizione mariana e dell'erradicarsi della devozione a Nostra Signora dell'Orto e ha ricordato, citando una felice espressione di San Giovanni Paolo II, come Maria abbia vissuto nella penombra della fede ai 30 anni della vita nascosta del figlio. L'esplosione della nostra festa in questi giorni in cui fede e tradizione si intrecciano in maniera inscindibile, ha ricordato il Vescovo, sia l'occasione per fare memoria della sua presenza materna nelle circostanze di silenzio e di quotidianità. Ci sono, dice Maria, sono in mezzo a voi, non dimenticatevelo. Ci sono. Il silenzio come ambiente giusto per parlare al nostro cuore. Per far vedere, per farci percepire la sua presenza. Viviamo così questi giorni. E viviamoli con una intenzione molto precisa. Quella di continuare a sentirla presente e vicina a noi nella nostra vita di ogni giorno, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nei nostri impegni. Maria, che ci offre la benedizione del suo figlio. Nel celebrare la messa dell'apparizione, questa mattina al parroco della cattedrale, Monsignor Gian Lorenzo Borzini, ha espresso la gratitudine di un popolo che nelle tribolazioni non si stanca di cercare la fonte d'acqua viva ed il volto della speranza. Maria, la madre che consola non solo e non tanto con la parola, quanto piuttosto con la presenza fisica. Non siamo più soli e non dobbiamo fuggire dalla realtà, che è segno della presenza del Signore. E tutto diventa positivo, anche il dolore e la morte. Perciò, anche ora, ci affidiamo alla Madre di Dio e la guardiamo con quello che abbiamo nel cuore, anche senza dir niente, perché ci tenga tra le sue braccia.